mi trovavo in vietnam era il 2020 era l'alba del 2020 e avevo cominciato il mio giro per il mondo è il mio decimo giro per il mondo in effetti però questa volta avevo deciso di circunnavigare il pianeta partendo dall'asia quindi mi sarei fermato in ciascun paese del sud est asiatico avrei attraversato l'asia centrale che è un posto che io amo tra l'altro fino a arrivare in giappone e poi mi sarei ridiretto verso il sud america passando per panama e la costa rica questo era il piano questo sarebbe dovuto essere il mio piano magnifico ma purtroppo era gennaio 2020 io non avevo fatto i conti con la realtà in realtà nessuno di noi l'aveva fatta perché da lì a poco sarebbe arrivata una pandemia internazionale che avrebbe cambiato completamente il modo di pensare al mondo il modo di pensare alla libertà di movimento che noi davamo tanto per scontata e però si è stato fatto che appena arrivato in vietnam gennaio 2020 cominciavano a sentirsi i primi effetti della pandemia si scherzava all'epoca in realtà perché non si era ancora in grado di comprendere la gravità della situazione è stato fatto che io mi trovavo sul confine presso il confine con la cina per cui la mia libertà di movimento fu immediatamente cancellata il mio sogno di gloria la mia il mio giro intorno al mondo era destinato a terminare dopo tre mesi infatti mi troviamo in vietnam con un con valerio un caro amico e business partner all'epoca però eravamo riusciti soltanto ad ottenere una business visa che durava 90 giorni come la maggior parte delle business visa che è possibile ottenere un po nei paesi extra europei e alla fine del novantesimo giorno all'epoca era ormai marzo 2020 mi pare fine marzo e primi di aprile del 2020 la situazione internazionale era completamente sfuggita di mano milioni di persone erano state ormai infettate letteralmente gli aeroporti erano nel panico e era quasi impossibile tra l'altro anche tornare un volo per tornare però che cosa è successo successo è che il governo vietnamita non ci rinnovò la business visa e ci cacciò a calci perché in quel momento l'italia era un po la pecola nera sullo scacchiere internazionale della situazione covi e nessuno voleva italiani anche per anche se io in realtà erano già dieci anni che non vivevo in italia erano mesi se non anni che non passavo dall'italia sicuramente precovid in ogni caso io avevo soltanto il passaporto italiano il passaporto italiano era in quel momento carta straccia nessuno accettava italiani non potevo come dire attraversare neanche materialmente il confine per andare in thailandia perché anche le frontiere erano controllate quindi l'unica cosa che potevo fare era tornare indietro dopo tre giorni passato accampato in aeroporto non potevo rimanere in vietnam non avevo il visto quindi se mi avesse fermato la polizia per un controllo mi avrebbe probabilmente arrestato e non è gradevole finire in una prigione del sud est asiatico immagino non ci sono ancora mai stato l'unica cosa che potevo fare era tornare in italia e allora da qui questa mia storia che cosa ti vuole raccontare che ha molto senso oggi pensare ad avere un secondo passaporto anche un terzo anche un quarto ma è molto importante oggi per massimizzare il proprio grado di libertà personale ancorché fiscale pensare all'ottenimento di un secondo passaporto come avrei capito un secondo passaporto ti garantisce la possibilità di accedere ad agevolazioni che un unico che un solo passaporto invece non ti dà quali sono queste agevolazioni allora in primis quindi libertà di movimento magari ti può essere utile per ragioni personali per ragioni di business dover rimanere in alcune aree penso sud america penso al sud est asiatico per più di 90 giorni consecutivi un secondo passaporto a seconda dei casi a seconda della libertà di movimento dell'area geografica in cui ti agevola ti permetterebbe di evitare di andare alla polizia federale a richiedere rinnovi e visti in continuazione e credimi che per uno che lo deve fare in continuazione è un game changer vero e proprio il secondo vantaggio è quello di un offshore shopping vero e proprio perché determinati passaporti ti permettono più facilmente di accedere ad alcuni conti correnti e ad alcuni company setup che il passaporto europeo oggi non garantisce la terza agevolazione è quella del real estate shopping cioè tramite un passaporto in una determinata area geografica è possibile accedere ad investimenti che invece il passaporto europeo non garantisce anche con alcune agevolazioni per quanto riguarda addirittura il prezzo di quel determinato investimento immobiliare la svizzera e la germania per esempio lo garantiscono per nascita sembra scontato l'italia non lo fa la seconda metodologia per ottenere un secondo passaporto è semplicemente quella di sapere aspettare e questo è il cosiddetto processo di naturalizzazione alcuni paesi dove un certo numero di anni ti permettono di accedere alle pratiche per un secondo passaporto è quello che fa panama per esempio dopo cinque anni anche la stessa gran bretagna ti permette dopo cinque anni di farne richiesta la terza possibilità che ha invece quella per investimento esistono tantissime possibilità di citizenship by investment in questo momento nel mondo guardiamo soprattutto a quello che succede a quello che accade nei caraibi ma non solo in realtà anche all'interno per esempio di alcuni paesi come il brasile ma anche in thailandia è possibile per investimento ottenere dei visti che poi sviluppano la possibilità di richiedere un secondo passaporto la quarta e ultima possibilità invece è quella di ottenerlo per meriti particolari ma questo riguarda soltanto poche giurisdizioni che garantiscono a determinate figure di spicco la possibilità di richiedere un secondo un terzo passaporto è una cosa che però difficilmente facciamo in pianificazione se hai capito quali sono i vantaggi e vuoi ottenere vantaggi e vuoi sapere quali sono esattamente le possibilità sullo scacchiere mondiale per te e allora ti consiglio di prenotare immediatamente una consulenza con il sottoscritto e per capire insieme come poter fare a migliorare la tua libertà personale fiscale e finanziare ci rivediamo in consulenza